Buongiorno, io sono Carlo Santulli, insegno all'Università di Camerino, nelle Marche, io sono ingegnere, sono ingegnere dei materiali, però insegno ai designer che hanno, diciamo, cambiato un po' la mia prospettiva. Io, quando ho iniziato la mia carriera, insegnavo sui materiali avanzati, cioè io ancora mi occupo di materiali avanzati, cioè materiali che sono più avanti, materiali del futuro. Adesso però ci si occupa tanto di materiali avanzati, cioè di quello che ci avanza, cioè degli scarti. Anche i designer sono interessatissimi agli scarti, a questo problema degli scarti. L'economia circolare, io, può essere non condivisibile, però già se vedete nel Vangelo la moltiplicazione dei panni e dei pesci, la cosa più importante è che alla fine non si butti niente, non c'è spreco alimentare, già da lì. Quindi, se vogliamo, non è un'idea nuova. Però è qualcosa che abbiamo perso, anche perché abbiamo perso il rapporto con la Terra, questo come si diceva prima, e abbiamo perso, i designer sentono anche di aver perso il rapporto con i materiali. Nel senso che, che cosa succede? Succede che io compro un materiale da un'azienda e ci faccio un prodotto di design. E questo può andare benissimo, può andare benissimo fino al momento in cui mi chiedono l'impatto ambientale del fine vita di questo progetto. Io faccio una sedia, la metto insieme a tanti, metto tanti materiali insieme, e l'impatto a fine vita, ci sono dei materiali sostenibili, dei materiali che lo sono di meno, ci sono colle, resine, difficile disassemblare l'oggetto e così via. Quindi qualcosa che è nato nell'ambito del design è l'autoproduzione. L'autoproduzione di per sé non è niente di speciale, l'autoproduzione è quello che faceva l'artigiano. L'artigiano si fa la sedia da sé e sa benissimo quello che ci mette dentro. Come noi, quando la metafora che funziona di più è quella della torta, noi facciamo una torta e sappiamo quello che ci abbiamo messo dentro e quindi chiaramente ne sappiamo anche se ci sono cose buone, se ci sono cose che ci possono far male, quindi cerchiamo di starci attenti. Fai da te, quindi DIY, do it yourself. Questo nell'ambito del design si parla di material tinkering, di pasticciare con i materiali. Detto in inglese sembra bello tinkering, in realtà si tratta di pasticciare con i materiali. E io ho iniziato a fare questa serie di esperimenti con i designer, con molta, da me da ingegnere che ero abituato a lavorare con le fibre di carbonio, le fibre di vetro, eccetera, a me creava un po' d'ansia. Questo modo di lavorare metteva un po' d'ansia, perché ci siamo messi veramente a pasticciare con i materiali, a fare dei pasticci. Vi illustro alcuni dei pasticci che abbiamo fatto. È chiaro che gli scarti, adesso si parla di lavorare con gli scarti, sappiamo la normativa 98, la direttiva 98-2008, che ci dice di non produrre scarti, le zero to waste strategy, eccetera. Gli scarti non sono tutti carini, non sono tutti simpatici, nel senso che ci sono anche degli scarti che ci creano un certo problema, e anche psicologico, se vogliamo. Uno dei prodotti design che ha avuto più successo negli ultimi anni è la Elephant Dung Paper, prodotta in Sri Lanka. In Sri Lanka ci sono gli elefanti, che sono erbivori, per fortuna, e ne fanno tanta. E giustamente, è cellulosa, e ci si fa le agendine, le cover, appunto, per cartoleria, prodotti di cartotecnica. Di recente, anche in Italia, al nord Italia, appunto, in provincia di Piacenza, c'è un eccesso di produzione di letame, comunque, è molto disponibile, è un materiale molto disponibile, si tira fuori l'urea e ci si fanno i fertilizzanti, si tira fuori il metano e ci si fa il biogassi, quello che rimane è cellulosa. E ci hanno, l'hanno vetrificato, e ci hanno fatto del vasellame. C'è anche un museo visitabile e quindi, questo significa che gli scarti sono un problema. Possono essere un problema. Gli scarti non sono tutti, come dico spesso a lezione, non è che sono tutti petali di rosa o cose del genere, ci sono scarti che sono pesanti. Una delle cose più inquietanti che mi è capitata di fare da ingegnere è che avevamo delle scarti di macellazione, se ne parlava prima delle farine di unghie bovine, e l'abbiamo messa, ecco, da ingegnere l'abbiamo messa in una resina acrilica in modo tale che fosse isolata, incapsulata e non la sentissimo più. Anche perché l'odore era inquietante, come potete immaginare. E quindi, i designer però mi hanno convinto anche di una cosa, che i materiali hanno una loro personalità. Per quanto alle volte la personalità sia complessa, sia difficile da manipolare, da venirci a patti, se vogliamo, però bisogna tenerne conto, una sedia Tonet in legno e paglia di Vienna non è la stessa cosa di una sedia in polimetilmetacrilato. Sempre una sedia è, però in realtà che sia lo stesso oggetto non è corretto dirlo. E quindi, cosa fare con gli scarti? Fare con gli scarti bisognerebbe produrre valore. Produrre valore, quindi, io vado spesso anche io nelle scuole, sono andato per la zona in cui lavoro, io poi vivo a Terni, quindi vivo sempre in una zona appenninica, diciamo, ci sono delle bellissime scuole sempre minacciate di chiusura, poi c'è stato il terremoto, eccetera. Quando si va dai bambini, io vado dai bambini, per parlare di materiali ai bambini bisogna partire il cavallo di Troia e la raccolta differenziata. Perché i bambini, magari i materiali, non è detto che li conoscano bene, però la raccolta differenziata sanno tutto, in che secchio ci va questo, in che secchio, e sanno anche i giorni in cui li portano via quei determinati secchi. Perché sono una bella spinta anche per i genitori. Ho visto che qui c'è il secchio giallo della plastica, ecco, anche a Terni venerdì si raccoglie la plastica. Su questo cominciamo a metterci d'accordo. Questa è una cosa che mi fa molto piacere perché è sempre stato, negli ultimi anni è stato un caos quello della raccolta differenziata. Ai bambini se si parla di raccolta differenziata vi dicono cosa si può fare per l'ambiente, chiedete cosa si può fare per l'ambiente, i bambini vi rispondono riciclare. Abbiamo mitizzato questo famoso riciclo. In realtà il riciclo è molto distruttivo nel senso che noi ricicliamo le plastiche e ne otteniamo di meno e ne otteniamo di minore qualità. È un fatto termodinamico, non è che ci sia nulla di male. La cosa migliore come sapete sarebbe non produrre gli scarti, non produrli proprio. quindi dargli valore. Abbiamo in questa nostra investigazione sui materiali abbiamo anche ripreso alcune idee vecchie, alcune idee antiche, cioè delle plastiche prima delle plastiche perché c'erano delle plastiche prima anche di quella scritta sul diario di Natta nel 54 fatto il polipropilene. Prima del 54 c'erano delle plastiche, prima c'era la bachelite la famosa formica delle cucine del dopoguerra in cui c'era gente che buttava via la cucina in legno massello del nonno per prendersi la cucina di formica. Oggi è una cosa da folle però si faceva e ci si sentiva di essere moderni. Abbiamo riproposto e riscoperto la galalite la plastica la protoplastica da latte scarti del latte scarti della produzione del vino quindi aceto abbiamo fatto insomma un sacco di pasticci alcuni sono venuti meglio alcuni sono venuti peggio però la scusa era anche che insegnare il metodo sperimentale alle persone in Italia abbiamo inventato noi il metodo sperimentale in effetti con Galileo il metodo sperimentale è una cosa che noi dovremmo sentire molto vicina però che a scuola non si insegna tanto in realtà il metodo sperimentale è una storia di fallimenti nel senso che si inizia io faccio la metafora delle normalmente si parla di qualcosa di cucina la torta delle lasagne anche quando vado a parlare ai bambini e sono cose difficili da dire prima di pranzo però sempre meglio che parlare della farina di unghie bovine comunque il chiaramente se vi mettete la prima volta a fare le lasagne vengono male e così è anche per i materiali le prime cose che uno fa non funzionano tanto quindi abbiamo insistito sullo sviluppo di ricette sviluppo di ricette sui metodi di produzione e così via alcune cose sono venute benino alcune cose sono oggetti capisco e parlo in un contesto industriale quindi la domanda che viene spontanea è si possono evolvere in prodotti chi lo sa forse sì forse no è però il primo passo sono dimostratori materici è il primo passo per cercare di capire se dai materiali di scarto si può fare qualcosa questi per esempio era qualcosa che a scuola si trova tanto cioè gli scarti delle matite gli scarti della tempera delle matite che sono stati messi per farci dei giochini per i bambini fondamentalmente con degli stampi autoprodotti stampi in silicone o simili si sono fatti questi giochini per esempio con coloranti naturali perché un'altra delle cose che abbiamo dimenticato è che ci sono tantissime tempere naturali colori naturali per esempio ci sono la curcuma colora benissimo la rapa rossa ma ce ne sono tanti la clorofilla e così via le difficoltà che ce le abbiamo col blu blu naturali non ce ne sono tanti in realtà si finisce a usare il blu di metilene perché il cielo è blu e quindi piante blu non ce ne sono granché e quindi per dirvi questo è un altro esempio è una lampada è una lampada che è stata fatta con l'acqua delle carote con gli scarti dell'acqua delle carote sempre in una resina autoprodotta da cellulosa fondamentalmente da amido e glicerolo fondamentalmente l'unica cosa che in realtà compravamo era il glicerolo quindi i due grandi filoni delle cosiddette bioplastiche le nostre sono autoprodotte filone di quelle venute dagli zuccheri quindi dagli amidi e l'altra ottenuta dalle proteine normalmente con gli scarti del latte oppure con il tuorlo dell'uovo la proteina del tuorlo dell'uovo quindi simili a quella di cui vi parlavo la gallalite perché questi due tipi di plastica la gallalite è quasi scomparsa se si utilizza ancora in Nuova Zelanda ma è quasi scomparsa perché poi sono arrivate appunto le plastiche dal petrolio e quindi è sparita però sono idee che andrebbero che hanno che ha un senso riprendere mentre le plastiche originate dalla cellulosa esistono ancora nel senso l'acetato di cellulosa nonostante tutto ha una sua storia che va avanti da 150 anni e ancora resiste questa è una lampada questi sono dei giochi per bambini dai fondi di caffè un materiale molto popolare nel design adesso sono i fondi di caffè ci si fanno crescere i funghi ma viene utilizzato anche nell'ambito di design con qualche collante noi avevamo appunto c'eravamo autoprodotti collanti che poi non è una cosa tanto strana c'è una cosa che negli anni negli anni 20 e negli anni 30 si faceva comunemente la colla di pesce la colla di farina la coccoina famoso brevetto del 1928 e quindi è un ritorno indietro ma è un ritorno anche a una consapevolezza ambientale di cui i designer hanno bisogno non lo dico io che i designer ne hanno bisogno in realtà è successo che io avevo iniziato questo corso anche con qualche perplessità sulla base di qualche esempio alcuni anni fa sulla base di qualche esempio che si faceva all'estero e mi sono reso conto sono stato travolto dall'entusiasmo di questi ragazzi e effettivamente mi sono reso conto che le possibilità di utilizzare gli scarti erano tantissime questa è una cornice di uno specchio sempre con fondi con listelli fatti da fondi di caffè da una bioplastica da fondi di caffè fondo di caffè molto disponibile perché in realtà un bar mediamente fa 10 kg di fondi di caffè al giorno quindi è un materiale che si trova un po' dappertutto e così via abbiamo fatto anche diverse sperimentazioni con le scuole con i licei adesso nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro è una cosa di cui anche mi sono occupato come università noi facciamo questi laboratori di alternanza scuola lavoro con i licei e con gli istituti di tecnici ci sono degli scarti che indubbiamente sono interessanti perché hanno delle potenzialità molto anche di di dare delle texture differenti di dare delle colorazioni differenti questa è una bioplastica autoprodotta con all'interno delle fibre di finocchio degli scarti del finocchio perché poi c'è tutto il discorso dell'odorosità di questi materiali la plastica venuta dal petrolio io penso che della plastica venuta dal petrolio non ci libereremo facilmente perché è un materiale eterno praticamente eterno purtroppo da un certo punto di vista e inoltre è un materiale che ha queste forme diciamo molto precise molto accurate che in realtà non sono mai esistite in natura se voi considerate questo genere di materiali bisogna accettare il fatto che abbiano delle che abbiano delle superfici mosse delle superfici complesse che si modifichino col tempo che magari ingialliscano col tempo ma questo fa parte del fatto di essere naturali se noi vogliamo riproporre questi materiali facendo finta che è plastica non saremo delusi perché in realtà non è esattamente plastica sono dei materiali che hanno un'origine naturale e quindi hanno il loro ciclo di invecchiamento lo sbaglio è stato utilizzare la plastica industriale per l'usa e getta perché in realtà per oggetti che durano poco varrebbe la pena o relativamente poco o che vogliono essere customizzati quindi adattati al cliente vale la pena ottenere utilizzare questo tipo di soluzioni per esempio avete una cantina e volete presentare il vino nuovo questo è stato uno dei primi lavori che abbiamo fatto in collaborazione con la seconda università di Napoli nel 2013 perché c'era una ragazza che una tesista che aveva gli scarti dalla produzione del vino e voleva fare effettivamente un set per la presentazione del vino nuovo è chiaro che si può fare tutto con la plastica set per la presentazione del vino nuovo non durerà tanto deve servire è un materiale d'occasione si può fare con gli scarti stessi della filiera perché la cosa migliore è che gli scarti li utilizzi chi li ha prodotti perché sa cosa sono e perché non ci sono costi di trasporto simile a questo ne abbiamo fatto un altro più di recente sempre con scarti di produzione delle vinacce un set per aperitivi e così via lì si pongono poi una serie di problemi sono riutilizzabili sono lavabili a questo bisogna rispondere con una certa prudenza dipende si possono rivestire anche con dei rivestimenti naturali come per esempio la gomma lacca e così via in certi casi la lavabilità non in lavatrice ma insomma se si devono essere bagnati e riutilizzati non presenta dei grossi problemi in ogni caso sono la cosa strana dell'usa e getta è che noi abbiamo utilizzato dei materiali che potrebbero durare anche un secolo tipo il piattino di plastica e lo utilizziamo per una volta a volte nemmeno quella perché il piatto non ci piace lo buttiamo direttamente questo è l'assurdo diciamo dell'usa e getta e noi abbiamo cercato anche di reagire a questo questo è sempre un set per aperitivi dalle bucce di patate dalle bucce di patate sempre inseriti in questo materiale autoprodotto a base di di amido di mais in questo caso e questo è stato uno degli ultimi lavori che abbiamo fatto a volte ci siamo messi a ci siamo soffermati su dei materiali di scarto che sono che uno non immaginerebbe mai c'era questa questa ragazza questa studentessa lei lavora la sera in una multisala sull'Adriatico e in questa multisala si vendono i popcorn una sua personale statistica ha valutato che circa il 50% dei popcorn vengono buttati perché siamo diventati molti americani in questo danno dei secchi di popcorn enormi più grossi del bambino che li acquista e quindi giustamente la maggior parte finiscono buttati poi dopo un po' stancano anche i popcorn uno può mangiare un chilo di popcorn i popcorn però sono un materiale anche sostitutivo del polistirolo perché sono vuoti leggeri e così via ha tentato di fare questo gioco per bambini con un esito anche direi abbastanza interessante con i popcorn incapsulati in questa resina autoprodotta e noi cerchiamo sempre di utilizzare sempre prodotti scaduti anche se utilizziamo fecole di patate e così via sei prodotti scaduti in certi casi siamo molto fortunati abbiamo fatto questi materiali dalle tisane non avete idea di quante tisane scadute ci sono a casa basta chiedere il mercato delle tisane è sovrassaturo pieno di e quindi in questo caso abbiamo cercato sono materiali che non possono più essere consumati quindi in ogni caso abbiamo cercato di riproporli per un uso espressivo in questo caso c'era anche qui la colorazione con le antocianine dalle rape rosse sapete i sacchetti di rape rosse che uno compra al supermercato c'è quell'acqua che è fortemente colorante in realtà è piena di antocianina e colora quindi un'altra cosa oggetto di breve durata se avete un gatto ci sono gli oggetti le palline o i tiragaffi che i gatti massacrano in breve tempo e giustamente sono oggetti di breve durata che vengono spesso fatti con invece dei materiali anche abbastanza importanti anche dei cartoni abbastanza anche abbastanza complessi e qui abbiamo fatto la pallina con l'erba gatta e con la valeriana abbiamo anche il filmato del gatto che non ho tempo di mostrare abbiamo provato col gatto e quindi l'erba gatta lo entusiasmava un po' di più e la valeriana lo calmava giustamente e quindi c'è tutto un discorso che con la plastica non possiamo fare che è quello dei materiali aromatizzati e che per esempio appunto un tavolo in legno massello ha chiaramente un odore che è caratteristico e può essere anche molto gradevole perché si impregna di quello che per esempio dell'atmosfera della casa se volete la plastica questo non lo permette questo genere di materiale lo può permettere l'aromatizzazione dei materiali questa è stata una delle prime riproposte della galalite con fondi di caffè scarti di latte scarti di aceto la galalite ha il problema di doversi asciugare per un certo tempo come dicono i miei amici che lavorano sui polimedi di doverla curare che poi vuol dire stagionare in pratica e abbiamo fatto questo set per aperitivi collegato anche all'utilizzo degli arrosticini che sono molto diffusi tra le marche e l'abruzzo e effettivamente questo set era un set anche abbastanza ben ben strutturato dal punto di vista di design abbiamo avuto la collaborazione del designer anconetano Roberto Giacomucci e effettivamente vedete che questi oggetti di breve durata vale la pena è chiaro che poi alla fine sono biodegradabili e compostabili abbiamo in certi casi fatto anche le prove di compostabilità e effettivamente funziona sono oggetti di corta durata e quindi vale la pena utilizzare degli scarti lampada in galalite che ha avuto una stagionatura molto lunga c'è un mio amico che dice ma i tuoi studenti fanno troppe lampade si fanno lampade perché le lampade effettivamente danno l'upcycling immediatamente la lampada dà l'idea che il materiale ha avuto una rivalorizzazione e effettivamente poi se fate caso molti degli oggetti di design sono sono lampade perché la lampada molti degli oggetti iconici di design la lampada eclisse di Vico Magistretti per esempio ma tantissimi tantissimi oggetti sono lampade nel nostro piccolo abbiamo questa lampada in galalite per esempio che assolutamente senza colle è fatta tipo un puzzle non ci sono colle è stata lavorata la galalite come il legno e effettivamente io ce l'ho in ufficio da tre anni e posso assicurare che va ancora perfettamente una delle ultime cose ancora pochi veramente pochi minuti è stato questo esempio di riutilizzo in loco c'era una una nostra studentessa che ha un maneggio e il maneggio lei faceva la limatura delle unghie ai cavalli degli zoccoli e quindi c'era questa polvere di zoccoli questa polvere di cheratina che è stata inserita in una galalite a sua volta si è fatta la matrice di galalite e e ha fatto gli oggetti per la pulizia del cavallo un utilizzo totalmente a chilometro zero naturalmente a malgrado le vicende dell'ultima dell'ultima sentenza della Cassazione noi stiamo tentando di reintrodurre la canapa da parecchi anni nelle Marche e nell'Umbria e a Fabriano Fabriano c'è la carta di canapa ci sono degli artigiani che hanno ripreso a fare la carta di canapa questa è una lampada con un paralume in carta di canapa che può essere colorata e così via noi sulla questione della canapa non ci arrenderemo perché c'è gente che ci ha investito un sacco di soldi e non è che cioè non poi francamente alla mia età farmi trattare da drogato è un po' esagerato e e comunque il lampada in carta di canapa pannelli in carta di canapa colorata anche con carbone vegetale e così via queste sono alcune delle tante idee che abbiamo avuto nel corso degli anni quello che vi posso suggerire è di andarvi a vedere su youtube noi abbiamo ogni progetto ha un video su youtube almeno quelli che sono venuti meglio se date sperim design in due parole su youtube andate a vedere che cosa abbiamo fatto e se ci dite che ci sono dei margini di miglioramento ne siamo ben felici perché sappiamo benissimo che sono dei pasticci non sono ancora dei prodotti ma sono delle idee per delle idee per crescere per evolvere eventualmente in un prodotto per capire quello che funziona e per capire cosa che da professore universitario mi interessa ancora di più quello che non funziona e che potrebbe essere migliorato grazie 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 a tutti